Uè! Io, fratelli, mi ricordo ancora le conversazioni che si facevano dal barbiere. Sì, perché io fino ai 27 anni ci sono andato. Poi basta. Poi mi sono tagliato i capelli a zero perché dovevo mettermi le parrucche. La mia non è alopecia areata, è staccanovismo. Comunque, già all'epoca, dal barbiere, riguardo alle tasse, tutti davano la colpa allo Stato sanguisuga e nessuno cazzo dava mai la colpa al barbiere. Overbarco, dove è? Che cazzo c'entra il barbiere? Belin, se c'entra, me lo fai vedere. Evagione fiscale per 700 mila euro da parte di un barbiere. Questo qui è fresco, fresco. L'hanno stanato ieri a Catania. Con i soldi sottratti alle tasse si è comprato un appartamento, un deposito, un terreno, un SUV, tre utilitarie e due moto. Ora, io vorrei chiedere alla Meloni. Meloni, scusa, se fote 700 mila euro lo Stato, cosa sei? Un grande evasore, un piccolo evasore o uno stronzo medio? Comunque, io sono anche stufo di insistere su questo tema, io lo faccio da anni. E quindi ora vi farei vedere un punto di Paolo Pagliaro che sull'argomento dice tutto e dopo lo farei commentare da uno dei più grandi esperti di italianità che abbiamo in circolazione. Me lo fai vedere. Guardate.